sentiamo con l'audio adesso l'audio è giusto ehi Gabriel ha messo già una chiave è incredibile si stasera ci siamo cazzo abbiamo iniziato un gioco della madonna ieri come salta non si salta niente non si salta niente non si salta questo gioco ha una funzione di salvataggio automatico non uscire dal gioco e non spegnere il sistema durante il salvataggio grazie a Vlad l'impalatore per i suoi sei mesi buongiorno signor Cato sei mesi di noi grazie si ok andiamo a spaccare il culo a cella dicevo sto iniziando a odiare questo gioco perché quando sono in live mi fa fare solo secondarie porca miseria quando invece mi fermo e dico dai le secondarie le voglio fare per i fatti miei non ci sono mai secondarie e devo aspettare per giocare perché c'è solamente la missione principale sono venuto qui ho fatto l'allenamento con piccolo un piccolo allenamento ho fatto è stato un incubo però ho sbloccato questa situazione qua che non ho capito se è una passiva o cosa potenza scatenata 20% danni inflitti ma i tuoi PS callano lentamente nel corso della battaglia e io non ho capito come funziona questa cosa qui perché non è qua no ho sbagliato guarda che miseria cosa c'era lì adesso c'era questa c'era questa si no non è in trasformazione guarda vedi c'è solo la vera fusione e la mecciana ma come fa ad essere una passiva allora a me sta bene che sia una passiva ma ha senso io non voglio attivarla perché qua c'è scritto 20% di danni inflitti ma i tuoi PS callano lentamente nel corso della battaglia ma io non voglio che mi calino i PS scusa cioè che cazzo vuol dire che è una passiva che mi dà dei malus cioè dovrebbe essere attivabile o disattivabile perché la prima cosa che ho pensato è una passiva ok però il fatto che mi canino lentamente i PS mi ha dato da pensare scusa attivare il terzo slot dopo attacchi e trasformazione c'è un altro slot? no non c'è niente ah eccola lì hai ragione era qua non l'avevo vista eccola qui grazie cazzo sono un coglione di merda non l'avevo vista grazie non avevo notato che era là quindi è una passiva che però devo attivare e disattivare dal menu forse era più comodo come trasformazione già la vera fusione in lameciana non vuol dire un cazzo è molto simile donna in effetti il supporto all'utilizzatore ovviamente le statistiche del 20% ma la tua aura cala lentamente nel corso della battaglia eh si no no ma per carità il 20% dei danni infliti più è comodissima come cosa ma sarebbe comodo attivarlo o disattivarlo durante la battaglia va bene niente ho completato livello 1 del life bella raga e andiamo avanti si 40% di danni in più non è male non è male però hai sia la vita che l'energia che ti cala quindi prepensionamento per piccolo hai le cure sai che le ho buttate via un po' di cure servirebbe un vendor ma in realtà no guarda aspetta ne ho tante altre il vita del rink la ultracola la registro al posto della cura tiè l'integratore energetico il senzu qualsiasi ferita no mi sembra un po' eccessivo tiè abbiamo 48 vita drink fija pe 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 curo all'infinito pe 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 e così che che vincono i guerrieri saian trinchettoni ve lo ricordate il trinchetto no quella bottiglia fatta a palle sembrava un pupazzo di neve poi devi tagliare la capocchia con la forbice e poi ciucciare ed era zucchero una schifezza però quello c'era e quello si beveva con questa bella posa va bene uccidimi sul serio attenzione si è tolto la mantellina ma perché adesso c'ho l'aura verde perché è Namecciano adesso già la battaglia prima non era abbastanza Namecciano lui porca miseria adesso c'ho la vita che mi cala e facciamo calare anche il C guarda questo combattimento durerà un secondo BAM mi sembra di fare così male cazzo l'energia come cala cazzo la vita come cala che fa? è una protezione incredibile quella lì che fai? eeeh che abbiamo risolto? 17 però con sta sfera eh? chi è? ma non ho niente per per avvicinarmi a lui non ho nessuna mossa speciale mili sono scemo sono super Namecciano venito da Namec arrivo porca vacca come mi ha ciucciato vita questa roba dai bastardo dai vaffanculo che fa? che fa? non ho più niente no niente vedi questo qui non si può penetrare dov'è? dov'è? è dentro di me è sempre stato dentro di me beh mi ha dato S giustamente perché il combattimento l'ho fatto bene ha ragione cazzo quanto è vero perché i meneggi finiscono che pare che Sel per ciucciare ai sedici non può infilzarlo ma lo deve ciucciare proprio gli apre il buco del sedere vabbè che bella mutanda Sel dovrebbero venderla una mutanda di Sel lo slipino verde e arancione mamma mia ciucciati a destra manca ma 17 è stupido poverino ora ti spiego come ora ti spiego ma deve andare via ma un altro che se la tira vegeta due grazie lili che buono cattone quel lavoro stiamo facendo panini alla mortadella bella quanto mi andrebbe un panino con la mortadella scottata e del formaggio adesso mi va si è svegliato sì sì svegliato più o meno dall'espressione bestia e quindi combattiamo assieme cell ma io non c'ho vita no ombre proiettate un po così si sono corretti crini c'ha sempre questo problema alla mano secondo me c'ha i polsi rotti crini sono tenuti assieme con lo scotch non sono i polsini quelli lì sono proprio lo scotch eccola non era così non era così avevano una bomba dentro non era un circuito c'era proprio una bomba che scioppava ma hanno cambiato questa cosa qui perché povero muten la bomba c'era solo c16 sicuro merda non mi ricordo niente poco dopo che Tinsing ha raggiunto piccolo l'aereo di Bulma arriva alla Kamehaus ah la bomba ce l'avevano tutti ah ecco e che cacchio massima 10 metri dal bersaglio ma fa ridere che al santuario di dio Goku la prima volta si è dovuto arrampicare su per la torre e poi cercare di prendere l'acqua da Korin poi dopo si è arrampicato sopra Korin si è attaccato col bastone ed è finito fino al santuario di dio Bulma ci arriva figa con la macchinetta solo i prescelti potranno arrivare al cospetto di dio no basta avere la macchina volante di Bulma eliminare gli androidi con la mano tutta rotta ma è strano come è politicamente corretto togliere la bomba perché non ho preso il molticesso che pugna shottato? vabbè tensi ciao c'è affare guarda che se dici sa il fatto suo c'ha anche il parapolpacci come in Saiyan fortuna che gli animali non li hanno uccisi ah ma anche 17 e 18 li ciucciava così scusi è suo questo uuuuh eccolo la mossa a scellare come funziona? c'erano dei tunnel stai vicino al buco bravo stai vicino al buco deficiente non sta tenere con le mani in mano non so mi sembra una cosa dolorosissima grazie a Skyshot sono maggiore no facciamo che sono nato due volte grazie che palla che è bruttissimo così era meglio prima Frizznor 17 mesi grazie che poi è tutto tozzo e c'ha delle scarpe perchè c'ha le scarpe scusa c'ha le scarpe però biashica ancora un pochino non parla proprio benissimo che spaccamento di faccia ciao ci sono poteri imbattibili Tenzing lo sa ma molte scene sono molto povere Goku tornava vado a vedere un attimino no non volevo far questo non ho nulla da potenziare perfetto ok al fly ah no ok niente devo fare solo questo va bene arrivo Tenzing ma io sono Son Goku ma le sferie del drago sono già sparite perché Dio tecnicamente è ancora dentro piccolo sono già sparite sono già sparite no troppo vicino perché ho sbagliato tasto che palle vengatela e fammelo la camera me ha fatta bene che è successo anche io eh no non si fa mai in tempo a farlo oh oh carta forbi c'è sasso definitivo e allora dai fermo cazzo quella che segue vaffanculo non ho visto ok adesso mi sono preso bene anche con Goku riesco ad utilizzarlo decisamente meglio faccio più fatica con piccolo Vegeta e vabbè Trunks che ho provato giusto due volte sì sì Cell ci prova ad assorbire C16 però capisce che è tutto robot e dice vabbè vaffanculo va a fare una pizza con gli amici con gli amici stronzo e duello cortese sono i tuoi scaldamuscoli da bastardo si fa i monologhi da solo da solo lui grande mag alla bocca subito sotto gli occhi doppia persona dici che proprio parla secondo se stesso cazzo sapete chi è la voce di Popo è uno dei personaggi di My Summer Car di quelli che girano di quelli che trovi in giro con la macchina ascoltate il doppiaggio e allora niente non parlare più bastardo era lui mio padre ha superato il limite del Super Saiyan dopo del Super Saiyan dopo due mesi di Saiyan ma non gli è bastato e allora è diventato un altro Super Saiyan che è diventato Super Saiyan Trunks è certo è arrivato lui è arrivato lui figa quanto ci ha messo Bulma ad arrivare musica rilassante con l'xilofono ma guardate brava Bulma brava corazze per tutti niente continuano a ripeterlo io non ho capito perché per tutto il manga e l'anime non siano sempre vestiti così sembra la cosa più comoda del mondo hai rotto il cazzo Vegeta oh che palle e comunque credo che questo vestito sia semplicemente poca voglia di lavorare da parte di Toriyama perché è la cosa più facile del mondo da disegnare rispetto a tutte le pieghine dei vestiti di allenamento di muten orca miseria Gabriel mandale pure scusatemi non pensavo che avessero preso tutte le chiavi di Instagram è per quello che ho detto a Gabriel di rimetterle scusate non volevo fregarvi perdonatemi ne chiedo altre ne chiedo altre manda quelle dopo le chiedo altre Gabriel ok fammi vedere se posso andare a qualche parte no ok mamma mia non abbiamo neanche comprato un mucolitico sono stupidi no personaggi ecco qui ah santo cielo non ho niente da potenziare ah si ecco qua questo su Steam si si tutte le chiavi sono per Steam ok scusate ragazzi c'ho la morte ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua Poi c'erano dei vasi dove c'era il cibo Era tristissimo perché era Un mondo vuoto E una stanzina di merda dove c'era Neanche una camera da letto ma due letti buttati lì E qualcosa da mangiare Dai Eh ha ragione Che bella queste sciene Sarei d'intralcio faccia di cazzo Però se ti dai una mossa magari Due stelle su gold advisor Ce lo faranno fare l'allenamento Si Ma z'enco Mi mossa prefe Che liscio va No Non sono riuscito a fare il masenco Perché? Perché è successo questo? Ma è più forte del masenco Confermato Ciao Ma è una sega Goku Scusa Ostia Che surprise mother fada E allora scappa Goku Scappa Tiè Ti masenchizzo la vita Ti masenchizzo Tutta ingredients Tiè Si Tiè 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 Dai Se non sbaglio Gohan Non te lo facciamo vedere Super Saiyan Finchè non arrivavamo da Freezers Ricordo male? Molto probabilmente si Lo sto facendo Occorre la collera Si vedeva prima? Ricordo male Eh loro si sono messi da collera Devono controllare la rabbia Non è facile Non avere fretta Datti tempo La collera non il colera Quella è un'altra roba Io lo guardavo così Che strani bambini Poco prima Vegeta e Trunks Verrò completato il loro allenamento Si Sì Non volevo aspettare Goku E allora va a fanculo Sto bastardo Quindi stiamo per vedere Trunks super ciccione Fat Trunks Che poi qui bastava parlarsi Cazzo Perché adesso Vegeta Non vuole superare un certo limite di potenza Perché sa Che altrimenti diventerebbe lento e stupido E Trunks pensa Cazzo ma Perché non si sta potenziando quel coglione lì di merda Lo faccio io E poi Vabbè Non gruppo personaggi Orche misere Vedi che dovrei andare al campetto io E che balle Io devo andare al campetto ad allenarmi Per forza Ma se no Come faccio Eccolo lì il campetto No non è vero che è inutile livellare Altro che Sono belli tosti eh 45 mi richiede Io sono al 44 No quello del 40 lo facciamo Dove sto sparando Dove è andato Aspetta che non li vedo Quando ho fatto così Bastardo Che fa Bastardo Mi sa che Trunks ha sbloccato più roba comunque Dai che me l'ha fatto di straforo Pezzo di merda Colpo devastante Tiè Guarda come l'ho devastato È morto? Sì Bravo Che miseria Che botta Lui le sue tecniche di Naruto Non so che palle Quando si Si spostano Di un metro Sì No T'ho provato Vieni qui Figa il critico Zio Ok Ok E vedete l'abbiamo fatto Trunks Figa Mi richiede il 55 Vaca miseria No direi di no No Non abbiamo Ma nient'altro da sbloccare Che strano Vedi Ecco queste cose qui Se tu non le fai I personaggi ti rimangono di merda Porca miseria Però trovo che questo menu Sia un po' troppo Nascosto Diciamo Non è Non è la cosa più intuitiva Del mondo Poi magari sono stupido io Anzi Al 100% sono stupido io Ma questo menu Io l'avrei messo un po' più in risalto It's Mr. Fever Stanotte ho sognato che andavamo a pescare perle insieme Sperando sia stato di buon auspicio Le lancio dei bits Grazie Ce ne avevo uno al 45 Ah cazzo di Vegeta Non l'avevo mica visto Ma me l'ha sbloccato adesso Ok No no Che è il 45 Non ce la fa Perché me l'avete fatto fare Raffarex Stronzo È difficilissimo il 45 È di un livello sopra Mannaggia a me Che ti do anche retta Non mi sono nemmeno curato Porca vacca Perché do retta a voi Persone Doro vita Porca vacca Stupidissimo Aiuto Che male Devo spammare come la merda Per sopravvivere Che stanchezza Porca vacca Ma come ha fatto Gersic Così quello c'è Dai che Vecita 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 è quasi andato Ok Vecita è andato Che puttana che teghe Che poi non posso permettermi di perdere Perché Si sprecano poi Gli oggetti Che ti servono Ad allenarti Perca puttana Che botta Ce lo sto facendo però Supergirl Non è Galic Ho sbagliato Volevo fare il Big Bang Non ho dimenticato che ce l'avevo Che rischio Che rischio Adesso non mi cago più Corro 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 Saiyan Saiyan Corro per la città In un attimo E qua Ci vuole un Saiyan Un Saiyan con me Allora Mi vado a curare Fortuna che sono fortissimo io Allora Fammi vedere un pochino Vecita Siamo andati al campetto Ci siamo potenziati Cos'era questo? Soprondo del Laura Ripetizione Ok Noi abbiamo fatti due E l'altro dov'era? Questo qua? Era questo mi sa Sfondamento dell'infinito Una serie di potenti colpi consecutivi Che infliggono gravi danni Normali E spezza guardia Allora E' praticamente la versione più figa Del colpo devastante Va bene Ah ho tolto E' meglio La super La super La super La super Energetica 27 Mi chiede O la Cos'è che era? Super Onda del Laura Ripetizione Infido Allora aspetta Avevo anche una roba qua No Posto Bo Vado Cos'è? Non me lo ricordavo che Bulma Faceva la pollicina Della situa Che palle Che lei non poteva volare Perché non c'aveva Il cuore d'oro Il cuore Il cuore puro Eccoci Ci sono? Che cazzo è successo? Che storia Non ho idea Di che cosa sia successo Credo sia Assaltato il server Di Twitch Perché Cioè A me La JAT Ha continuato A funzionare Tutto il tempo Infatti non mi Non mi sono reso conto Di niente Perché Non ho avuto Problemi di connessione Madonna mia Che è successo? Boh Non so dirvi Era successa anche la Robby? O forse Streamlabs? È saltata anche la pubblicità Avevi il cuore puro No no Ma a me va da dio Ho appena fatto Uno speed test Va benissimo Non è un problema mio E vedo che ho perso Sto perdendo anche pacchetti No aspetta Forse sto perdendo pacchetti Perché sto facendo Uno speed test Aspetta un attimo Vediamo No adesso va tutto liscio Boh Anche un altro streamer È saltato nel tuo stesso momento Davvero? Vedete? È saltato tutto È Twitch Boh Che nobbit Lo vedo tranquillo No no ma infatti la chat va Streamlabs È lì Semplicemente Si è disconnesso Per carità Durato 10 secondi Infatti va bene Stavo guardando Se c'era qualcun altro Che era Andato in In malora Tutto a posto? Siamo tranquilli? Vado? Quindi c'è stato uno switch E Un colpo di sonno Una sbandata Ho letto da Twitch support Che stavano facendo Manutenzione varia Magari c'entra Boh Può essere Può essere tutto Però per queste cazzate Sai Mi piacerebbe essere avvisato Una mail Ehi guarda che Faremo manutenzione Su questo server Non usarlo Ehi guarda che Succede questo Non No? Eh Cazzo Sì un avviso un po' preventivo Senza cagarsi adosso ogni volta Vabbè Andiamo Tranquilli Non è successo niente Non voglio saltare il filmato Non so cosa vi siete persi C'è Cell comunque che ha detto Se non vieni fuori Spacco tutte Le isole Ma se che Non Non Ma No, no, Valerio. Eccolo. Il livello 2, quello che non usa più nessuno, a parte Gohan. Ma aspetta un attimo, io adesso posso fare il ritorno e basta? Non posso decidere tra Super Saiyan e Super Saiyan 2? Non è il 2 questo? Giusto perché Super Saiyan 2 è a posto, nel senso che non ha il problema dei muscoli troppo grossi. Questo qui è superato il limite del Super Saiyan. Si chiama così. No! In the face questo. Hot damn! Sono sicuro di merda. Se l'ho sfondato praticamente. Ah no, no, energia, scusa. Arriva. E Super Saiyan 1.5. Il 2 è quello che i fulmini, sì. Il 3 è quello che si chiama così, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. ecco qua che incontro 18 ed è lì col bottone fortuna che Vegeta è stupido come Goku perché ricordiamoci cioè adesso Vegeta fa potenziare Cell ma non è nulla di diverso da Goku quindi coglioni tutti e due Goku l'ho fatto con Freezer chissà che non sono molto intelligenti disattivare, fare esplodere era meglio ma ok non me la far vedere l'erba se la fai così almeno mettici sei mesi prima di farla grazie Kenobit per il ride Kenobit tu hai avuto problemi di streaming? sei craschiato? che poi pestandolo ha premuto il bottone quindi bah io non l'avrei rotto così nuovo standard per l'erba è sei mesi assolutamente sì c'ha ragione pure lei dovevi disattimarmi coglione adesso con lei diventa fortissimo intelligenza per il poverino parla che parla col computer lui senti come lo lusinga eh almeno lui viene lusingato Goku l'ha fatto solo perché è stupido guadagno almeno 20 livelli di intelligenza ma solo 5 a fete eccolo là fermo lì perché c'è la cota che riesce da tra le scapole ma porca paletta guarda dov'era guarda lì oh coglioni si si vedete se le escono assieme la sera sono amici Trunks cazzo eh c'è i mustaki è vero Cell c'ha i baffi e anziché cercare di impedirglielo ti giri e urli vabbè quella mossa degli sfigati troppo più il colpo del sole è un colpo di livello 1 ma fortissimo eccolo che bell'uomo che sono era quello poi mi ricordavo che diventava ancora più figo ma mi sa che mi sto confondendo con Boo che narrazione che narrazione raggiungere la perfezione ma non mi ha curato ma che palle che cazzo vuol dire che ha fatto 8 cazzi e non mi ha curato che cazzo vuol dire che ha fatto eh niente dai che due balle sta cazzato cosa è successo? ah c'aveva una protezione bella mi carico e faccio la super mossa sì ma la sua è la precedenza quindi inculati che palle che non è lì che devo andare eh vabbè vabbè ma si para anche i big man attack si para lui si para tutto eh capo dei capi corpo perfetto eh finiamolo in fretta c'hai ragione cazzo vuoi che ti dica stronzo bella madonna che dolore no santo cielo è morto e mi da la amida perché mi sono curato capito ma mi hai fatto partire con meno vita e lui era imperiabile ah eh vegeta bella figura da merda è fatto così lascialo fare sono ragazzi preferisce morire che essere aiutato ma sì mattina mi lascia stare esatto grazie a patana ce la può fare credo in lei grazie dai 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 diventa una masso di schifo Trunks eh non so capire dai non mi ha fatto vedere neanche il combattimento ah perché diventa super gigantesco durante il torneo lui oh oh Perché crede nel cuore delle carte Guarda che tiene la mano ferma E muove tutto il resto La mano rimane ferma però Bravissimo Il mimo Allora diventava adesso ciccione All'antagliato Ma mi ricordo che ci rimaneva 10 giorni da oggi a mezzogiorno TENKAIJI Dai dai va bene va bene Bravissimo Che pare che lo annuncia veramente in tv E poi lui Come si chiama il palco Il pavimento dove si combatte La pedana la fa costruire a qualcuno La fa lui come E' ingegnere Cell Perché è più intelligente in forma perfetta La fa lui Perito Geometra Si vede anche che la fa lui Ma se lo mette il cappello da carpentiere Con le sue due lauree Con le sue due lauree giustamente Ma si entra in due è deficiente No in realtà c'era il limite Non si poteva entrare Più di una volta Due l'anno Cos'era? C'era un altro limite molto comodo Nessun cappello è mago vero Bravissimo Io spero me lo faccia usare Mr. Satan Sì però non prova proprio Una simpatia per Goku Non si poteva stare più di tre giorni totali Altrimenti sparisce l'entrata Nel frattempo Goku e Gohan Sono intenti a proseguire Il loro duro allenamento Nella stanza dello spirito e del tempo E' vero che Goku li tagliava i capelli E uno Tra le persone che ha assorbito Ci sarà stato un ingegnere Hai ragione Attraverso un rigoroso addestramento Gohan è riuscito finalmente A raggiungere lo stadio di Super Saiyan Ma la strada per diventare più forte E' ancora lunga E' un ananas Poi dopo gli si irizza ancora di più Ma la strada per diventare più forte E' vero? Non lo so Ma 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 non lo so E' un'altra strada per diventare più forte E' un'altra strada per diventare più forte Vai Ma senco della vita Non ci ho preso Figura di merda Che bello Che usare Gohan così E niente Non ci ho preso Che figura di merda Tiè E non lo so 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 E' Gon Ho solamente il Masenko Come onda A distanza E' tutto il contrario Di piccolo Facile Vesti che fatica Poi diventa Quando diventa Super Saiyan 2 Gohan Non prende i capelli di Cloud di Final Fantasy 7 Sono più lunghi Sì ma L'estetica La forma Glieli hai ritagliati Fatto la sagoma Va bene Bravo Goku Mamma mia come ha cambiato espressione Velocissimamente Sì è vero Gabriel È molto vero Sai cosa hanno tagliato soprattutto Le cazzine Hanno tagliato moltissime cazzine Vabbè a parte il fatto che Non so perché Non hanno detto che 17-18 aveva una bomba dentro Non so che tipo di censura sia Hanno tagliato la scena Delle mattonelle No hanno tagliato Trunks che diventa Super ciccione Molte trasformazioni Sono fatte Così E non con Con un'animazione vera e propria Mancano molte animazioni La gente si è dimenticata Del bambino che ha fermato Il grande mago piccolo Mancano proprio In realtà mancano tutte le animazioni Quindi non hanno fatto più Le scene dell'anima Come si vedeva all'inizio gioco Ma per carità io capisco Che il gioco è parecchio lungo Perché non è corto Quante ore saremo? Siamo a 20 e passa ore Siamo solo a Cell Ci manca ancora Bu Avrei reso qualche secondaria Magari meno fastidiosa Magari farmare meno fastidioso E una trama un po' più fitta Ad esempio Abbiamo buttato via 20 minuti Per anche di più Fare una buona mezz'ora Tra la gara con lo struzzo meccanico E imparare a guidare Quelle cose lì non servivano Perché? Attenzione La pesca Vabbè ma quella è bypassabile Ciao Cazzo stai Oh coglioni Vado via un anno Ho fatto il bordello Che succede? Ma le secondarie dei turisti Sono secondarie E ok Però cazzo Boh Il dramma Questa è la musica da Taverna di Skyrim Ha finito tutto? Oh vedi 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 Molto bene No che viene aria fredda poi So chiudi Grazie Un vecchio uniforme Eccola Che palla che si veste come piccolo Piccolo che c'ha il raggio vestitore E gli fa il vestito addosso Grazie piccolo-san Grazie Un po' collo alto Ma va bene Grazie Grazie anche a Francesco Ne siamo a 21 Ma lei rimane sempre magic Le si vuole bene gattone Grazie mille Grazie mille E che pare che va a vederlo e basta Ecco qua L'ingegnere L'architetto Buonasera Ma l'audio L'ha alzato tantissimo Ring era la parola giusta Che non mi veniva Non mi veniva Si scopre che non hai permessi per costruire Distruggono tutto Via 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 L'intervista a Mr. Satan prima del torneo? No Tutta l'intervista sarebbe una stronzata Però ovviamente ci sarà Mr. Satan Do Dove sta? Dove sta? Ma bene Bravo Stai tranquillo Vegeta Stai tranquillo cazzo Ti hanno aperto il culo Succa 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 Mi bastano nove giorni Nel pianeta normale Te vai nella stanza dello spirito Vegeta di merda Vai Vai affanculo Stronzo Stronzo Certo Il culo così te lo faccio Succa Senti Non se ritieni Perché quando il Super Saiyan È più serio Più Più orgoglioso Succa Ma noni Fatevi coraggio Bella raga Ciao Vabbè la scena con l'esegito Che quell'attaccava È un po' un chi se ne frega Fara da pipì Fara da pipì Grazie a tutti 3 giorni di riposo Poi 3 giorni di allenamento E poi 3 giorni di riposo Va bene Andrà tutto bene Coglione Torna a casa Che fa Che fa Ultime ore di pace Parla con Kiki Però posso andare Oddio le secondarie Che palle Guarda Va bene Allora Andiamo lì Goku Torna a casa Ok Aspetta un attimo però Perché effettivamente Non ho guardato Se c'era qualche cosa Da Da ficcarmi Qui Aha Ok Ho da acquisire Una cosa qua La potenza suprema Di tua sorella Perfetto E una qui sotto No Eccola qua La super camera di livello 3 Buona Yes E poi dopo La sfera Genkidama X Che cazzo è la sfera Genkidama X Ha ora richiesta 181 Eh la madonna Mai sentita La X Ciao Vale Mai sentita Ok A posto così Sostengono che Goten sarebbe in grado di diventare Super Saiyan così giovane Perché essendo stato concepito in questo periodo Goku si sarebbe trastullato con Kiki Restando Super Saiyan Ma vabbè Le 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 grandi cacate Cazzo Gohan va invece potenziato parecchio Eh dobbiamo assolutamente Andarcela a potenziare Il nostro bel Gohan La sfera Genkidama gigante Ma si chiamava X? Ma che nome del cazzo è? Scusa Ma tranquillo Citto Guarda che Ne chiedo altri Durante la live di Karima le due Poi ne spammeremo altri ancora Anzi guarda Li chiedo subito Li chiedo subito Un attimo eh Secondo Un attimo eh Un attimo eh Grazie a tutti. Ok. Ecco fatto. Mail mandata. Grazie a Floppy per i 18 mesi e Ilamaki per i 23. E Francescone l'ho letto. Siamo a 21? Sì, sì, l'avevo letto. Scusami. Eh, la vecchiaia. Ah, sì, davvero, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello. Allora, andiamo... Facciamo la secondaria e poi ci alleniamo un po'. No, ma Bruno non lo facciamo oggi, Drake, ovviamente lo faremo domani. Anche perché adesso abbiamo un botto di secondaria. Ma guarda chi si rivede, ma ciao! Vabbè, non mi frega niente. Otto non si sente bene, ma non è facile riparare un android. Aiuto a trovare qualcuno e gravi a sistemarlo. Bulma. Mamma mia, meno. Meno. Ah! Beh, almeno qua ci sono i versi vale rispetto a Pokémon. Giusto per dirne uno. No, non c'era Jason. Quindi devo andare a recuperare i pezzi. Va bene, Gabriel. Scusa, mi è finita così, no? Montagne settentrionali. Dove sono montagne settentrionali? Sono queste? Sì. No, ho sbagliato. Che miseria. Ok. Dicevo, non ti preoccupa, Gabriel. È giusto che sì. Hai fatto pene. Ma non rompere le balle, va là. Devo prendere i documenti sugli androidi. Va bene. Il postino. Amici, per sé. Cazzo vogliono questi grassoni, guarda. Niente. Ogni tanto premo il grilletto sinistro, ma mi attiva il Kaioken, vedi? Cioè, mi attiva la cosa delle trasformazioni. E non mi fa la parata. Vedi? Non si para ogni tanto. E quindi, se io cerco di trasferirmi da un'altra parte, non la vede come Perry. Fatal error. No! Ma mentre combatto! E non avevo salvato. Eh, non avevo salvato. Il salvataggio automatico, quello di fine missione principale. Eh, speriamo. Ma a caso? Così durante un combattimento? Vedi? Era questo. Montagne settentrionali, sì. Ok. Non so se è la prima volta o la seconda. Comunque, vabbè. Ricominciamo da Freezer? No, vedi, è arrivato qua. Cos'è? Ah, è... È Gohan. Cos'è questa cosa energetica incredibile? A mio figlio. Eccolo. Ah, che palle. Questa merda c'è. Oh no! Hanno finito le chiavi. Anche loro. Ma tra 20 minuti... A una conferenza le chiedo. Perfetto. Ok. Mi ha detto che le ha finite, ma tra 20 minuti ha una conference e ne chiede altre. Oh, arruba queste chiavi, eh. Arruba, arruba, arruba. E' interessante il giochino. Lo vedrete poi dopo da Karim e poi da me. Cos'è questo? Un brodo? Ah, è l'entrata? Non so. Che devo fare? Ah, devo romperlo forse. Non così tanto, Goku. Non così tanto. Gli sparo. Sto sbagliando qualcosa? Ha buggato? Perché lampeggia lì? Grazie a Lilt! Mi fa condividere di nuovo. Ne approfitto per dirle che fa un ottimo lavoro. Grazie mille! Per chi sa... È quello? In realtà... Ah no, guarda, qua ce n'è un'altra. Speriamo sia questo. Ok. Devo provare a sparare. Quag kommentare. Il Aldo è vero... Ah! 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 Eh, ne ho postate troppo ieri su Instagram Non pensavo che fossero così tante quelle che ho postato Ho 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 Ciao Ha 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 Posto E anche questa è fatta Ciao 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 Non si sente bene ma molto facile di riparare un androide Ah no no scusa è finita Non so mi scrivesse qualcosa di di più Allora io per sicurezza salverei Visti I precedenti I stili psicomantis Ok ok E ok Buona E ora Che fa? Che è successo? Allora Allora mi serve un posto di allenamento Burma se ti togli magari vedo quanta vita ho E allora non si toglie Ok ho la vita alta Che succede? Che succede? Mamma mia Mamma mia Come siamo fortissimi Ma cooler non esiste ragazzi non è canon Ok di qua devo andare Lì Perfetto ci potenziamo le palle Eh livello 40 Sì ma che livello sono io? Porca miseria che fastidio Livello Mi dice livello consigliato ma io non so che livello sono 45 Oh E che cos'è? Sì I film sono canon Ma che palle che è quella che segue Che è stronzo Beccati quella che non segue Ma che fa un male della miseria La schivata No su Z non c'era Era nei film sicuro Cooler Nel manga assolutamente non esiste Però nel manga neanche esisteva la sorella di Bulma voglio dire Quindi Quante kamehameha mi state facendo nel chiurlo? Figa Bravissimo No Liscio Che fa? Grazie a tutti Grazie a tutti Che liscio Va bene Ma da questo stato Goku mi torna Da non Super Saiyan Se finisco l'energia Non ho capito cosa è successo Sono canonici Quello del futuro di Trunks E prima lo ero quello di Bardak Eh ma quello di Bardak non lo è più Cioè nì in realtà Perché le nuove origini di Goku Non vanno proprio contro A quello che hanno messo Nel film di Bardak se non ricordo male Figa che distruzione Che è piccolo Piccolo figa Ti disintegro E qua Quello era in Super e Canon Eh non ho guardato Super Oh finalmente parliamo sta cazzo di Kamehameha E abbiamo un altro attacco a distanza Vaffanculo 8 ore impararla Prima sul più piccolo Sbaglio Gohan usa veramente pochissima energia Per il Masenko Dov'è che non fa neanche così tanto male In realtà Tavo gatto che ci sei la presenza con i più deboli Beh cazzo Adesso te lo spammo fino alla morte Cazzo E guarda un po' Ce n'è ancora No Ho lasciato Figura di merda Questa però c'è Un altro? No No Lo stay fermo un attimo Piccolo Porca puttana Muori Dai Che dobbiamo sconfiggere se Intanto è un allenamento mentale Questo Eh Si è complicato quando ho voluto inserire multiverso C'è un multiverso quindi Dragon Ball Io sono rimasto veramente in manga Perdonatemi Anche GT Anche GT è già qualcosa di fantascientifico Motte da Ordu Un'altra idea è stata un'altra mia Ficura Vaffanculo Che inaspettata botta nel culo C'è rimasto in manga di Z, sì Quello di Super ne ho comprati un paio Ma non le ho neancora letti, pensa Quanto tempo ho avuto Comprati a Day One, eh? Ah, sì? Figa, morirai prima o poi Piccolo di merda Guardate che questi allenamenti mentali Mi devono togliere vita Shimunito A secco! Dai che è quasi andato Poi ce ne manca un ultimo allenamento Guarda che è il papà di Goku Papà Caputana che botte Figa, piccolo, e muori! Adesso, guarda, spammo Con le palline ti uccido Ok Ok Ok, devo fare il masenco guidato Cioè, fare Non voglio fare il masenco guidato Però Devo sbloccarlo Quindi andiamo ad allenare A riposare Perché La gestione della vita in questo gioco È il mistero Che tuttora ci attenaglia Non si sa perché Negli allenamenti mentali Uno poi dopo Perde la vita vera E deve fare così Per poi tornare Ad allenarsi Dov'era? Lì Perfetto Ultimo Alimento Con Gohan E poi andiamo avanti Cazzo Questa Genki Dama X Mi attizza molto Sono così stancanti Intensi da sembrare veri Questi allenamenti Eh, guarda Per me sicuramente sì Che belliscio Vieni qui Piccolo Gohan Non viene qui E allora niente Masenco anch'io Sei morto Gohan Rafica di Masenco Ho sbagliato tasto No, non è vero che ho sbagliato tasto È lui che ha fatto quello che voleva Tiè, vaffanculo Poi prossimo Ma risposto duro Eh, la Peppa Che luci Che light Affancuore Da face Piccolo Anche lui Ma sei cosa Che sembra una mossa tedesca Ma va bene E state fermi Un attimo Sì, mi ha tirato veramente Dei bei cartoni Vabbè Il colpo che stanna chiunque E non è vero Ecco Ora Abbiamo fatto A me del Masenco guidato Me ne frega sinceramente Una sega Però Ci serviva Per sbloccare Nuove vie In Goku Abbiamo fatto No, sì Tutto il fattibile È stato fatto Da Goku Da Gohan Invece Bisogna ancora Darci dentro Scusa Gohan è 47 Goku Ha 45 Ah, hai capito Quindi l'ha già Sì Che l'avesse già superato Lo sapevano Sì Non c'è una via di mezzo No O zoomatissimo O no Cos'è? Ah, questo mi sembra Il C No, un'altra roba Ok Masenco guidato Non mi interessa Non credo di equipaggiarlo Era giusto per Avere tutti gli attacchi disponibili Fammi vedere qui Vabbè La Kamehameha Io la metterei al posto Della botta Al corpo Porca miseria Che schifo di mossa è No, super volo del drago C'è Da me Super colpo del drago E al posto della botta meteorica Mi dai la Kamehameha Ne ho qualcosa di meglio Del colpo schiacciante No, non me ne frega niente di quelle Perfetto Almeno abbiamo un personaggio Un pelo più equilibrato Sì Tiaba Mi serve il livello 50 di Goku Per poterla sbloccare Quella mossa lì Sì Maudid Però Cazzo Quando prende Non fa la stessa potenza Dell'altro masenco Preferisco sprecare colpi Col masenco non guidato Che No Allora Ci curiamo un attimino Qui Oh la guarda Ah La potenza nascosta Che era veleno Ma abbiamo già trovato L'acqua L'acqua Sacra Ok Perfetto E Andiamo a Oh no Pilaf Salve Sta caccando Andiamo avanti Le secondarie Non ci interessano Tipo strano Vabbè Doh Si Ma Si No OI Sono disparate Di cercare Una capsula Perduta Aiutali a trovarla Anche se la volevano Utilizzare Per ucciderci Quindi noi la troviamo E sarà Un robot Che ci attacca Scommettiamo Le sfere funzionano Che puoi A parte il fatto Che adesso Non funzionano Perché Non c'è dio Perché si è unito A piccolo E questa cosa Non l'ho capita Effettivamente A livello di Logica Ma ok Le sfere funzionano Tu le raccogli E puoi portare in vita Uno dei tuoi vecchi nemici Per poterci combattere Nuovo E potenziarti Oppure puoi Chiedere delle sfere Z Fica First try Cos'altro è che puoi chiedere Soldi Tutto qua Ok Wow Quella è la fianzata Di Trunks Sì Suonano Arrivo subito Gabri Sei stato tu Mi pare di aver ordinato Niente io Oh è arrivato un pacco Non so Che palle Gabriel Che tocca Questa capsula Contiene l'arma Definitiva Che ti spezza Ti spazzerà via Una volta per tutte Va bene Un robot potente Prego Chissà che cosa Aveva detto Gatto Un attimo fa Chissà che c'è Stiga, che dolore Ma cazzo, sono a un livello sopra il mio Ale Neanche mi sono scomodato a fare niente Era una sega Vanno a prendere Dende prima dello Cell Games Non mi ricordo E mi ricordo che Dende era lì Ed era al posto di... Cioè diventava il nuovo dio Sai che non ho capito come mai per la Genkidama torna non Super Saiyan Che è successo? Che è successo? Gohan Ho trovato un buon partner per allenarti Va bene In mezzo ai mondi Gli occhi Chi è? Chi mi dà? Uh, il nonnino? Il nonnino? Dimmi che il nonnino... Eh, non credo sia neanche la metà della mia potenza Ma il nonnino! Avversario potente è stato assegnato sulla mappa Grazie Ah, un malvagio Per i soldi da taglia Va bene Ah ok, è raconofobico Però, tecnicamente è raconofobico In questo gioco qua Cioè in questo gioco In questa... In Z Spiegano anche che Goku In forma di Super Saiyan Riesce a stare tranquillo Cioè lo scopo per cui rimane Super Saiyan Anche qua Ma dai, ma sono dei... Cosi di freezer Di merda Sì che in realtà è solo una scusa per spiegare Perché non hanno più fatto usare la Jeikidama Goku da Super Saiyan In Z È una scusa veramente delle balle Vabbò Come sempre Come sempre Spiega, tostarelli questi guerrieri di Reserci Uniti Thank you, sir Matti, adesso apro Ah, non riesce contro il Kid Bu? Sono arrivati dei pacchi Vediamo un po' cosa contengono Questi pacchi Che ormai abbiamo capito Ci sono stati mandati da Satana Ma... Che palle Che palle Gabriele Aspetta, non c'era un biglietto? Niente? Non c'era un biglietto Gabriele Vabbè, ho capito che sei tu Per vari... Grazie Gabriele Che mi hai regalato Vita da Yamcha Con i cosi dietro di Saibaman Che sono invisibili Perché sono verdi No, non c'è il biglietto Gabriele Però mi sono arrivati due Hai fatto due regali Gabriele È molto meglio di Jaco Ci voleva poco Perché mi è arrivato un altro pacchetto Che contiene Che contiene Una profumazione E dentro... Ah ecco qua c'è il biglietto Qua c'è il biglietto Merry Natale Fa schifo Ah perché non mi faceva... Non potevo regal... Non potevi regalarmi questo Capito Non ho neanche disegnato Si svita Remove white ring Ma qual è il white ring? Ah eccolo Discarda Discarda il white ring L'ho apprezzato moltissimo Gabriele Ti ringrazio Ah Profuma di santità Guardate che belle le gelline Fuoco 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 Vabbè Ah Ah che bello Sai che è quasi quasi questa Me la metto Nel portabicchieri della macchina Potrebbe essere una bella mossa Per profumarla Oh vabbè Ah Me la poggio qua intanto Mi profumo la vita E... Andiamo avanti qui A menare le mani Grazie Gabriel Oh scusate Popopopopo Figa Disintegrato già Grazie a podotto Per i suoi sei mesi Non c'era bisogno Per un nemico base Ma ok Ma come mai è sempre Kiki Che determina Quando possiamo andare avanti Nella trama No Ferrisco l'energia Eh ti pareva Cazzo ma questi sono gli uccelli Che mi parlavano Con dei pesci Quanto è distante Bestia Io mi aspettavo comunque Dei nemici interessanti Baba Figa Quelli dell'esercito di Freezer Grazie a Jonathan Per i 33 mesi Che liscio goal Bestia 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 Non toglie tanta vita Però sto attacco Bravo scemo Bestia Questo qui è fortissimo Ok Ne manca uno Orca miseria Che dolore Mi ha bucato Ma è un robottino di merda Eccoci E vado sott'acqua E poi esco fuori dall'acqua Sono un delfino Un delfino super saian Che ha trovato il potere Di come diventare un saian Che è nel cuore Di un super saian god Eccolo Bella ba Ah Boh Quanta exp mi dai? Due chili Beh Non me ne ha data poca Devo dire Però non so quanto me ne serve Perché per vedere Quanta exp mi serve Uh Wow Buono Buono Ma ha dato anche lei Perfetto Per vedere Quanta exp mi serve Devo fare Start Personaggi Goku E qua Prossimo livello Mi servono 44 440 723 Capito Mi sbolo Sì Vuole andare in comunità Mamma non saprei dove metterla Qua Probabilmente No No In realtà non fa sinergia con nessuno E dove la metto Qui? Non è da nessuna parte Ah Andrà con suo fratello Ma Yanco Che cazzo serve Qua Vecchio e più vecchio Ok Spettatori dello scontro finale Yanco lo possiamo magari spostare Mettiamo Guarda giro bene Non c'è un cane Che tristezza Che si allena Lo mettiamo qui Giusto per Boh Si Si fan cagare Le mie baccheche Dovrò studiarmi Qualcosina Un po' più ficcante Mi ci metterò Oh L'ultima secondaria C'è un posto dove curarmi Prima Vuolo sottacco Che non voglio combattere C'è un delfino Pasenco Ok Rubiamo il cibo A questo povero signore Che si sta facendo da mangiare Stiamo bene Eccoci No? Di qua Lì Guarda come tutte le Le scie di palline blu Arrivano qui Bella mu Bella mu Ok Vuole vedere i progressi Fatti da Goku e Krilin Affronta Krilin e mostri cosa sai fare Figa È una buona idea Bianco fa sinergia con Goku e Krilin Sì Però Krilin non so se c'è Ah sì Potrei mettere meglio nella Z Forse Adesso vediamo Va bene Mai farla quando la faccio io No? Che falle che siete Ma è una bella idea questa Ho proprio un'idea di merda Vabbè Beccatelo Però Anch'io Ma come lo picchia Poverino Non vedo niente Sì è una È proprio bullizzarlo Non ha senso Questa sfida Oh mi ha spezzato la guardia però Bravo Poi non mi attacca eh Anch'io Non riesco mai a fare la Kamehameha Contro Kamehameha Vaffanculo Ancora Vale Non è morto? Beh Jake è down Ma No Goku non perde più aura Ho notato Ma credo che sia Gameplay No scusami Trama Perché lui non può effettivamente Tornare normale Vabbè Vabbè Siamo avanti Non tanto Ci siamo Abbiamo fatto tutto Abbiamo visto tutto Anzi Mi faccio dare un po' di fagiolini E poi andiamo Il Super Kamehameha Va contro Super Saiyan Blue Ma è il Saiyan Che ha sconfitto il potere Del Super Saiyan Per diventare un Super Saiyan Super Saiyan God Blue E Krilin l'ha combattuto E ha vinto Mi stai dicendo Quindi Krilin Ha superato il potere Di un Saiyan Che ha sconfitto Il potere di un Saiyan Superando il limite Del Super Saiyan Diventando un Super Saiyan God Blue Non vince Peccato Cazzo hai ragione Mi ero dimenticato Di parlare con Mutant Che ti regala roba Una gita al lago Tutti assieme Che bello Perché Carne e pesce Dovrei avere tutto Aspetta vediamo Se ho già tutto Sai che bello Non mi serve pesce Abbiamo tutto Abbiamo tutto No aspetta Allora prima di Prima di andare da Da Kiki Andiamo da Muten Che ci fa i grandi regaloni Che me ne ero completamente scordato Di quella cosa lì Però abbiamo tutto Che bello Eh lo so che comunque ho preso la patente Purtroppo L'ho fatta prendere io Allora Gohan Perché sei qui Io che no Ah no Basta è finito lì Qui cosa c'è Uh altri ricordi Sì ma Cammina veloce Trivista per adutti Pazzesca Niente Dovevo ripetentare Posso usare il teletrasporto Sì Vabbè in culo Ciao Tanti no Mi dispiace Ma assolutamente Tic 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 Tiè Fatto tutto Si è già tornato Che bravo Ha 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 Ho voluto superare i limiti I limiti della cuoca Chi che ha superato i limiti di una cuoca Che ha deciso di diventare super cuoca Raggiungendo finalmente Il potere del super cuoca God No, non me ne sbatte un cazzo però Mi vado a guidare adesso Sì, sì, per carità Se il mondo non stesse per finire a breve Attenzione Attenzione Scevete le cazzate Scevete le cazzate Abbiamo un telefono Non c'è Va bene Che falla Va bene, va bene, va bene Due, tre memorite Ma io non ho capito Scusami Ma perché devono sempre telefonare a sti poveri Cristi? C'è un'altra secondaria qui però Una sola però Speriamo Raccolgo la memorite e poi dopo vado a fare la secondaria Se la trovo la memorite Dove l'avevo lasciata Oh no Ma non si può rompere questo, niente come l'ho detto Dove vado? Che fa? Che è? Oh, sei scevo? La memorite Ma io non vedo niente Eccola Però me sono un tre Ho un dotto Crea il gruppo? Si può fare? Oh Eh no, non è vero Eccolo lì Perfetto Però voglio andare a fare il ragazzo di secondaria Ah ma è fuori dalla mia giurisdizione Carino che mi faccia andare da una parte o dall'altra Cioè Senza dover aprire la mappa posso andarci volando Ai Saiyan Guarda che Riescono a vedere le rocce A distanza Capiscono subito cosa gli serve Si possono trovare le sede del drago Non in questo momento Perché non esistono Cioè non esistono Sono spariti insieme a Dio Ma Si Si possono raccogliere Infatti come vedi Ne ho Cinque Cioè Il Sincerity Witcher È anche l'occhio dell'acqua Se vogliamo Oddio Di nuovo Questi due coglioni Vabbè Mi sono impegnato tanto per cambiare Ma nessuno vuole diventare mio allievo Sono disperati dai cerchi di studenti per la scuola della gru Conoscendoli potrebbero ricorrere a mezzi di reclutamento ben poco onorevoli E quindi Spacco la fascia Nani Ho guardato Non c'erano corna Nella parte prima si Adesso Ce n'è una qua adesso Anch'io lo voglio Che bello L'enciclopedia botanica preferisce lui Un po' stupido Poverino Ma perché non Mamma mia Che ricolor terribile Hai ragione Posso andare solo con Goku No comunque non c'era Tranqui Funky Ma sono delle sege Ah giusto Vorrei parare a Kamehameha Che liscio Bravo Non gli piacciono i sedi Prendetelo Eh sta Kamehameha Ma la voglio proprio far fare In teoria Ce lo danno Era un bonus preorder La colonna di Taobai Poi non so come la utilizzino Se la lanciano effettivamente Ok Eh io corno Non so come fai Ma perché tu hai sconfitto Tutti gli altri E raccolto tutte le sfere del drago Io non ho avuto tempo Attenzione Eh io purtroppo Ho fatto tutte le secondarie E ho fatto tutto quello Che è nel mio potere fare Però cazzo Comunque non Vabbè Dizzicano per le poppe 55 al 32 Eh ho capito Tu c'hai tempo da buttare Cosa devo dirti Stronzo E poi hai anche posizionato bene Poi i personaggi Che in me sono abbastanza cazzo Aspetta che faccio questo d'oro Che raccolgo un po' di cose Papara 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 Come mi piace Girare Eh il gioco Alti e molti bassi Purtroppo Perché è molto bello Ma come dicevo giustamente Prima Gabriel Hanno fatto dei tagli Uno Troppo grossi E due Alcune animazioni Non si possono proprio guardare Per il resto Musica Citazioni Cose Tutto bellissimo Non gli puoi dire nulla E' veramente un bellissimo gioco Però Se non sei fan Diciamo che lo puoi Tranquillamente Bypassare E non giocare Anche perché La storia è spiegata Un po' col culo Infatti io non mi ricordo Una sega Ma dove cazzo è Che vive Bulma di merda Non è qua Vabbè facciamo così Eh no ma perché Fan si corn Ma te la devi comunque ricordare La trama Perché molte cose O le hanno cambiate O le hanno tolte Hanno tolto la bomba Da dentro C17 e C18 A caso Non è più una bomba Serve a disattivarli Già quello Mi fa già i coglioni La potenza scatenata 20% di danni Ma i tuoi PS calano Vai Do solo battere Radish Cazzo sono al 48 io Cioè scusa Non ho vita Spalla che non mi cura Prima di fare Sti allenamenti di merda Questa per me è merda Il fatto che non ti curi Prima di fare Gli allenamenti mentali E ti lasci senza vita Dopo gli allenamenti mentali È una grandissima schifezza Panger Ecco ho usagerato Che fate? C'è un Saibaman Non mi fanno usare Poi i nemici Spammano tantissimo Soprattutto Radish Che schifo To sei morto Ola Spammano veramente troppo I nemici No no Lo so che non mi dà voto Ma anche quando fai le A me dà fastidio Perché vorrei fare 3 o 4 allenamenti di fila Korn Ho capito che non mi dà il voto Però Non è che devo A metà di un allenamento Andarmi a curare È proprio una scemenza Allora Allora Ti ricordo Era solo per disattivarli E allora Mi sono sconfuso io Ok Il telecomando Ci va a spegnere Ma non fa di scoppiare Grazie Basta Non so se attivarlo Già Però Intanto è lì Ok Dice che il masenco guidato È più forte È anche lì Non c'è scritto Una percentuale Di potenza Tra una roba e l'altra Ma forca vacca Devo andare fuori Dalla porta Va bene C'è una secondaria Ma l'abbiamo guardato prima Porca vacca Un avversario unico Dove eravamo lì Aspetta Non ho visto nessun avversario Nella stanza Scusa Chi c'era? Ma di chi parli Della Della androide Di Fighters La ragazza Scuola d'Arginio Ah ho capito Quella del DLC Non mi pare di averla vista Comunque Sei quella che non voleva fare le pose Ok Che parli che vuole comunque uccidere Goku Non poteva togliergliela quella cosa Va bene Adesso vediamo Corn Però Dov'era scusa Nella stanza O nel Nel menu del combattimento Perché se è nella stanza Ci possiamo andare Guarda Guarda Di qua C'è lei E non c'è nessuno Eh no Vedi non ce l'ho Non l'ho mai vista effettivamente C'è una secondaria Mi avete detto Ma non mi pare proprio Arca vacca Il santuario Ah ho capito Bisogna potenziargli La cosa La cosa degli allenamenti Con i materiali E anche quella Vabbè Quella è una roba Che mi metterò a fare Con più calma Mi ero dimenticato Che si poteva Amo Dai dai Sì vabbè Con la modifica Ti danno avversari Più potenti E probabilmente Sblocchi anche I potenziamenti Successivi A quello Che già ti danno La live è alle Alle nove Scusate Come sempre Però ci sarà Farò la live con Karimmoji Quindi alle due Sono con Karimusa Salidaro Mi ha aspettato Ma Che ha in bot Ah che vera Scusa Ah non volevo Non volevo fare il masenco Volevo Caricare Laura Ho sbagliato Mi sta uscendo Dal cervello Questo gioco Doppio peri Cinque mesi Non voglio capire Perché Twitch oggi Mi dà il quinto Mesiversario Ma vabbè Vabbè Non importa Grazie mille Rinnovate tutti Bella gente Eh 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 Non ho mai Energia con Gohan Tien da face Ahia Sei scemo Sei scemo Eh Sei scemo piccolo Sei un piccolo scemo Che fai Ti metti contro di me Sono il principe dei 6 anni Non è vero Però guarda Ok Banchetti il masenco Oh che puttara Che tega Dicevo Banchetti il masenco Banchetti la camera Fatto Eh modestamente Quanti teletrasporti Appena arrivi Lui è già girato Versi te Sì sì Ma è mago Infatti Beh Figlio del grande mago Piccolo Lo voglio dire Bravo Bravo Molto piccolo Ma anche un altro pianeta L'ho distrutto tutto Ok Si chiamava Al satan Si chiamavano Al satan Nella prima serie Basta Con quel doppiaggio lì Di Italia 1 La super rivista Per adulti Che ha sconfitto Il livello più alto Della rivista Per adulti Per diventare La super rivista Per adulti God Pazzesca Blu Quella con Ma è la fastidio Non poter tirare giù I palazzi Cazzo Sono fortissimo Tiro giù gli alberi Guarda Le paleoliche no però Perché quelle lì Sono ambientaliste A giusto La funzionalità È completa Mi fa piacere Molto Sono contento Tante care cose Pure i cerbiati Guarda qua Dal culo Gli tira fuori Del cibo Eh sì Un studioso Semplare Amo E non te lo potevano Togliere dalla testa Hai ragione Attenzione Attenzione Figa Dottor Gelo Ha cagato fuori Uno così Complimenti A Jeff Torres Trovi le sfere gattone Le esprima Un bel desiderio Grazie mille Sonna Chi è che se la ride Un bracconiere Attenzione Ma Perché questi bracconieri Girano con i robot Che poi facciamo Tanti nobili Ma eravamo noi A prendere a pugni Nelle balle I cervi E i lupi Per raccogliere La carne Parcognieri Del fiocco rosso È già troppo che Dottor Gelo Abbiamo fatto un feed Infatti Sono delle Seghissime No non mi dà Supporto 16 Vaffanculo Chi è Sempre bella La kamehame Ancora Fermati Bravo Ciao Deve essere morto Durante l'assalto Di Goku Alla sede del fiocco rosso Il figlio Dici Non era quello La carne Non la pelliccia Ah beh Sono Ah beh Odessamente Spoiler Ma prevede il futuro Questo qua No 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 Eh Non si può far togliere Il potere di uccidere Goku La voglia Sono dei geni Voglio dire Ne ha riparato la testa Che balle Invece no Va a fare l'eremita A Timbuktu Vesti cena Bravo Ah no L'ha chiesto a Gohan Non a C16 Scusate Gli altri due androidi Non ce li ho Vero? No Probabilmente Dove sconfiggere Cell Prima C16 Caffettino C16 Si E' perso Nel suo modo A lei Serata libera Sempre pensare ai soldi Chichi Oh Attenzione Lusinga Lusinga Attenzione Ha imparato Ha imparato a parlare Le signore E ne sono passati Di acqui Sotto i punti Dal pat pat Stasera si trifola Edizione Edizione straordinaria Le guardia reale Le guardie reale Partita preliminare Partita preliminare Mostro conosciuto Come Cell E' stata decimata Da un attacco Di potenza Straordinaria Nei che la tv Mi ha fatto vedere Vedi Non c'è niente Non ti fa vedere Niente Ci sono quattro personaggi Cioè in realtà Ci sono molti più personaggi Rispetto a Pokémon Ma Quelli fatti bene Sono solo quelli principali Tutto il resto È molto di contorno E le animazioni Sono ridotte all'osso Ciao Gabriella Dopo Ciao Ciao Ah niente Ok va bene C'ha ragione pure lui Adesso si va a prendere Dende Namek 2 Ha proprio la persona adatta Ed è Kindadade Ma che palle Che si passa da una musica Pam Paraba Il baretto di Skyrim Namek 2 La vendetta Piccolo-san Adesso Piccolo Piccolo Dà la mano adende E lo assorbe Dice Cazzo Di nuovo Chiamane un altro Maledetti rameciani Che si appiccichano Questi qui Un saluto Vedete il bastone Che è lunghissimo Che si appiccichano Dende Dende E si perché lui fa parte Della famiglia del drago No Cento giorni Eh ma non ce l'abbiamo Sì adesso Adesso non te la tirare Piccolo Come? Sì? Ma cazzo Ma le crea Super OP Non mi ricordavo Che Che le sfere del drago Poi diventassero Super forti Eh butta via Come tutto qua Ma è OP da morire? No Si passa da Da tre desideri A due Però Con il potere Di quelle singole Che puoi riportare in vita Più persone assieme Cosa? Quando? Quando? Beh ce ne mancano due Vediamo se da recaio Non c'è niente Ok perfetto Qui c'è una secondaria Allora Andiamo prima qui Come le fa? Ma che ne so Dov'è? Cosa? Oh È il gatto Eh ho capito Non c'è Allora Arrivederci eh Le depone No Se ne poteva portare in vita Ah eccolo dove era A farla secondaria Eccoci qua No E di no Visto che Corrine è qui No Giù Dimmi tutto bello Non ha rifugio Fica che palle No no Ti ricordi bene Corrine Però se non sbaglio Le avevano già Le avevano già raccolte Non ti ho chiesto Di fare quel lavoro lì Ok Come devo andare all'arena Del cell game A raccogliere i funghi Raccolgo le sfere Intanto Korn Prima del cell game C'è un momento Di pausa? Non la vedo Ecco qua Che vorrei fare Mettermi a fare secondaria Però magari off screen Raccogliere un po' di cazzate Off screen Ma voglio far vedere in live Io che raccolgo le sfere Cioè scusami Io che vado avanti Nella trama Dici che è questa La pausa Anche se noi raccoglievano C'era stato io in Sharon Che equivale ad avere le sfere No mi pareva che utilizzassero Entrambe nel manga Però adesso non ricordo così bene La mia memoria Come avete visto Fa cagare Che bello Questo fondale Ok Ce l'abbiamo Adesso speriamo un desiderio Esatto il piano B Arca miseria No Non mi dice Valle a riportare Lo fa Cacca Non me l'aspettavo Pensavo mi lasciasse Un attimino di tregua Sì va bene Ok 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 Parla con N quando sei pronto a combattere Perfetto 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 Ok Allora vado a funghi E adesso vediamo Se posso cambiare il gruppo Non penso però Corna Perché quello si fa proprio Nella missione Che si chiama intervallo No No vedi No Ok Sì qui potrei Metterci Anco di merda Vabbè adesso vediamo Stanno che non Sinergizzano Sti due coglioni Aspetta Aspetta Devo fare Così No No Aspetta Bianco lo sposto qua Questo lo metto qui No 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 Ho sbagliato Ah Odio sta cazzata Allora questo qui Sì Sì Ah no no Comunque Dio Non ce l'abbiamo Perché Dio E' il capo Qua No Non è vero Porca miseria Qui però posso fare Non me ne frega Anche poco In realtà Di aggiungere roba lì Vabbè Metto dende qua Abbiamo anche 16 No Non Non si ficca Ok Ok 16 Siccome qua Ci E' utile Vediamo Niente Ah mi serve anche Questo robottone Ok Vabbè Giusto per Poi che mi manca? Più macchine Che uomini Cappelli perfetti Che palle Mi sta piacendo molto Dragon Ball Sì Allora Raccogliamo gli ultimi Sfiunghi Cioè gli ultimi Raccogliamo i funghi E poi Ci possiamo anche Fermare Porca miseria Porca miseria Buon poveri Non mi fai passare Dimmi tutto orso Va bene Uomo bestia Oh panzoni Vi spacco la faccia Come se ne va Ma che cazzo L'animalina Questa era una cosa Che c'era Nel manga Se non ricordo male Che diventavano Uomini bestia Allora c'era Lupo Mannaro Il contrario Vabbè Brutta storia Chi se ne frega Ragazzi Chi se ne frega Si gioca Nel destino Dell'umanità Chi trova più funghi Ah no No Ah 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 E dove cazzo È Bulma Cioè Puol Tu raccolgo le cose Che trovo qui intorno Bulma 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 Dove sei Bulma Bulma C'è Bulma Non c'è Bulma Bulma Eccola Se il game in realtà È una caccia al tartufo Con onde energetiche Bella Bu Eh Crebio Nani Nani Che bello Red Ribbon Aveva Vendeva partite Di animale Scadente Per Rimpinguare Le proprie Casse Santo cielo È una missione Infinita Questa Per accogliere Dei funghi Devo andare A fanculo Dai Muoviamoci Sì Forse la macchina Ce l'ho Da guidare Me l'aveva regalata Bulma Dovremmo avere tutto Spero No Mi manca la lumaca Fluviale Polposa E le corna Di gazzella D'oro Ma santo cielo No Mi da solo La nuvola d'oro Che però Va lenta Come lo schifo Quindi non la voglio usare E dove devo andare Adesso Per raccogliere Questi materiali Terribili Mi servono Gli elementi Corna La lumaca Fluviale Le corna Di gazzella Non ho mai raccolto Niente di tutto ciò Vediamo se trovo Un cervo Gli tiro un pugno Nelle balle Là ci sono i lupi Là ci sono i cervi Però mi serve D'oro Ah per la macchina Sì sì è vero Devi costruire da burma È vero è vero Che ce l'aveva detto Non voglio lasciare Ci aveva detto Che se li portavo I materiali Mi costruiva la macchina Hai ragione Corna bestiale Guarda te Sei il super saian Che sconfigge Il potere di un saian Per diventare Un super saian god E passare il tempo A raccogliere Ste cazzate Che vogliono questi Saibaman Di livello 45 Si l'avevo visto Immaginavo fosse Quello con Solo che io ho visto Il lupo Non era il cervo Purtroppo Una gazzella Non un cervo Hai ragione Ma Che cock blockade E la macchina fluviale Dove la trovo Vicino a un fiume Probabilmente Quindi Dove devo andare A West City A West City A Una scondita di Yanko In fase di Goku C'è il fiume Buon pranzo Cap Sì Anch'io dovevo andare A pranzo Sì infatti Corno Sto andando lì Però Abbiamo forse questo Gambero di fiume Lumaca fluviale Polposa Presi Ok Mi serve la gazzella d'oro Adesso Che cazzo la trovo Io la gazzella Tu c'è un ricordo Fica il matrimonio Qui non c'è neanche un animale Come fanno a mangiare? Grazie a Mattia Per i 15 mesi Cara di cervo dorata Eh però è cervo Non è gazzella Che palle Cos'è sta roba? La freccia Io ci provo lo stesso A ammazzare Quella a fare Magari Che fanno Quanto si ricarica Sto bastardo Figlio di una grandissima Quanto Quanta 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 vita Quanta Questa 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 No Non è vero Si Vite Recupero Questa 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 Vabbè pure Mamma mia che font terrificante E adesso gli animali saranno scappati però No, sono stupidi, fortuna Tieni le balle Vabbè di che era cervo E le gazzelle dove sono? Che cazzo ne so dove sono le cose Una zona più savanosa Vabbè, facciamo che mi arrangio per questa cazzata Sì, salvo e mi arrangio Ragazzi, io come sempre vi ringrazio per donazioni su Bresub Stasera si va avanti con Journey to the Savage Planet Che si è rivelato uno dei capitoli più interessanti Dell'anno Quasi ai livelli di Un altro gioco Che non mi viene in mente Già che ci siamo Raidiamo Morelli E gli diciamo Ma fatela una vita Così, giusto per essere fastidiosi e pungenti Ci vediamo stasera belli Grazie mille, buona giornata No, no, che stasera Ci vediamo alle due da Karim Ci vediamo alle due da Karim Ciao Ciao Grazie a tutti.